Tutto pronto per l'edizione indoor del mercatino del Calcit, quello che vede coinvolte le scuole. Abbiamo una bellissima rappresentanza nel nostro studio di coloro che organizzano e di coloro che saranno protagonisti anche delle novità di quest'anno. Ma io parto come voce dal nostro Siro Piantini perché il mercatino in danza che poi adesso andremo a sviscerare comunque è una delle iniziative, forse la più importante, del mercatino indoor. Che vuol dire? Vuol dire all'interno ovviamente dell'Arezzo, Fiere e Congressi e che appunto vede coinvolte le scuole. Che risposta c'è stata a Siro quest'anno? Ma c'è stata veramente una risposta sempre tutti gli anni, quest'anno è la quinta edizione, è stata sempre una risposta in crescita. Onestamente niente, indipendentemente dal mercatino ma tutti gli eventi collaterali e quest'anno onestamente mi ha fatto un enorme piacere che è stato fatto un galà in memoria di Otello Bracci. Otello Bracci, lo spiegheranno i nostri amici qua, era l'omino del calcite, definiamolo così. Niente, il programma è praticamente il mercatino delle scuole, quest'anno è la quinta edizione, è qualcosa di nuovo che mette insieme tutta una serie di scuole che alcune volte, visto la scuola quella con quell'altra, si guardano un po' in cagnesco, però il calcite è capace anche di fare questo. E niente, dal sabato pomeriggio inizia al mercatino, alla sera ci sarà una scena a cura degli amici dell'isola e la domenica mattina dalle 8 alle 20 c'è il mercatino, con una serie di eventi, alle 10.30 ci saranno tutte le autorità che facciamo anche un'educazione stradale e ai ragazzi naturalmente anche questa è prevenzione. A mezzogiorno vi si aspetta tutti, a pranzo con tutti quelli del calcite e niente, è un augurio e la macchina è già in movimento da giorni, dagli amici del calcite di Vida Florentina e onestamente c'è qualcuno che sia un po' infortunato. Sì, ha provato la danza aerea mi dicono. Sì, ho fatto le prove però è andata un po' male. Vabbè, comunque vi aspettiamo tutti a Rezofia dei Congressi dal 3 al 4 al 5 per poter contribuire al calcite. Ecco, abbiamo già un po' svelato Greta questa che è diciamo una delle novità di quest'anno intanto ricordiamo che il mercatino in danza è alla sua edizione numero 5. Insomma, al quinto anno una iniziativa assolutamente consolidata, anche in questo caso si coinvolgono le scuole ma di danza che devo dire rispondono in maniera molto importante. Quest'anno tanti stage, cioè la possibilità comunque di potersi allenare, così dobbiamo dire brutalmente, insomma con i professionisti da parte dei ragazzi che partecipano. Insomma, dici un po' di novità. Dunque, la prima novità appunto è questa, a cui tengo in modo particolare, che poi non è una novità, però quest'anno e più degli altri anni sotto la bandiera del calcite veramente tutte le scuole di Arezzo, che sono in concorrenza perché non ci dimentichiamo, Arezzo ci sono penso 15-20 scuole di danza, però per il calcite sono tutte insieme, tutte riunite, soprattutto al galà, al primo galà, noi vedremo esibirsi i migliori allievi di ogni scuola e questa è una cosa veramente bellissima perché il calcite fa diventare una città solidale e siamo proprio tutti insieme per un bene superiore. E un'altra cosa tengo in modo particolare, il calcite non fa solo bene alla sanità retina, ma anche alla cultura. Il calcite riscuote dalla cultura e lo investe nella sanità e soprattutto dà spazio ai giovani e alle nuove proposte, perché quest'anno abbiamo due novità, la danza sportiva e il circo, ma non il circo inteso come gioco, il circo inteso come arte, come poi ci spiegherà la nostra presidente di 100% circo. 11 stage, cosa vuol dire? 11 ballerini professionisti che si offrono gratuitamente, ci tengo a questo, noi non diamo rimborsi spese, perché te sai Greta che molte associazioni che fanno beneficenza, sì tutto gratis e poi danno rimborsi spese che in pratica vanno a pari perché c'è il rimborso spese, no, i ragazzi pagano e gli insegnanti lavorano gratis. Per dirti la nostra serietà, in 24 anni, tra rassegna di musica e di danza, abbiamo raccolto 55 mila euro, devoluti totalmente. Questo è da ringraziare, come ricordavi tu, appunto i professionisti che... Un'altra cosa che non si sa, anche io l'ho saputa da qualche anno, il calcite non dà i soldi alla ASL, Sassoli ci tiene a dire questo, il calcite va a comprare i macchinari, cioè siamo noi che scegliamo, in base anche alle richieste dei medici e siamo noi che compriamo, che scegliamo l'occasione migliore. Beh, insomma, potrei raccogliere questa tua precisazione per ricordare che dobbiamo difendere quello che il calcite ha portato ad Arezzo, mi fermo qua perché non è il momento delle polemiche, comunque delle, come dire, ecco, delle polemiche, diciamo così, però, insomma, difendiamolo, insomma, io ci tengo molto, come tutti gli aretini, a ricordare questo aspetto. Allora, prima di entrare nella danza aerea e l'aspetto circense, vado da Carlo Benucci, che, insomma, ovviamente scalpita per parlare al microfono, ma del resto, eh, noi ce l'abbiamo, come dire, abituato felicemente. Ecco, scherzi a parte, Carlo, insomma, la nostra, la voce. Io ringrazio questa emittente che mi ha dato l'opportunità di stare in televisione, di fare e di divertirmi a stare con voi, per cui vi ringrazio immensamente. E in questo particolare momento ringrazio il Calci, da oltre 30 anni, praticamente, e so con certezza tutte le vicende che sono a corso, che succedono e che accadono qui in questa città. Ma mi preve ricordare, è doveroso ricordare, Otello Bracci, che ha intestato questo memoria, diciamo, questo galà, e che Otello Bracci... Ci presenteremo insieme. Sicuramente sì, e ti ringrazio di questa, della fiducia, che è Greta Palazzini, la vulcanica... Ringrazio io, ringrazio io, ringrazio io. ...istrionica, vulcanica, come... Voglio emulare il padre Franco, che ha inventato il mercatino del Calci, ma ritornando al nostro grande Otello Bracci, se il presidente Gianfranco Barulli, nel 78, ha ideato il mercatino, ha ideato questo comitato, è stato il grande Franco Palazzini, che ha inventato il mercatino del Calci. Ma chi è che ha dato visibilità, chi è che ha dato impronta al mercatino, all'unione di questi ragazzi, inizialmente, iniziati praticamente prima nel 78, con 15, 20, 15 banchini. Ora, vediamo quanti sono i numerosi, i mercatini, ma non soltanto i mercatini, ma anche altre iniziative, che fanno sì di avere un bilancio annuale, dagli 800 a 800 mila euro, al milione di euro. Questa cifra che è importante, ma non perché è del Calci e quindi è degli aretini. Otello va ricordato veramente per la sua onestà intellettuale, per la sua rettitudine, veramente un personaggio riconoscibile dai sandali, perché lui non portava le scarpe, portava i sandali, e era chiamato quello del Calci. Addirittura un aneddoto, un aneddoto andò a cercare, perché lui era il raccoglitore inizialmente, ora sono le famiglie che portano al Calci, che portano nel nostro magazzino la merce praticamente in soffitta, dismessa, usata, e lui faceva il frate da cerca, andava a cercare per le case. E quindi tutti lo conoscevano come, non come Otello, ma come quello del Calci. e chiaramente noi ricordiamo con questo Calci, devo ricordare anche tutti quelli che hanno dato il loro contributo e purtroppo non ci sono più, a iniziare dal professor Nannicini, che è stato, diciamo così, il primo oncologo a cui il Calci si è affidato come personaggio a cui attingere le richieste, le ricerche di strumentazione di concerto con l'ASG. Allora, io andrei... I personaggi, se mi consenti, professor Nannicini, poi io vorrei menzionare anche Bottai, vorrei menzionare Gabrielli, vorrei menzionare Federico Calimberti, vorrei menzionare Caneschi, e mi scusi se qualcuno me lo dimenti con questa circostanza, ma sono stati tutti i personaggi che hanno dato il loro contributo alla realizzazione e alla crescita di questo grande comitato ed ora chiaramente si è espanso non soltanto al Mercatini, ma anche a queste iniziative che Greta Palazzini, nell'Orma, lo ripeto ancora, di Franco Palazzini, perché Franco si è ritirato nell'ombra, ma nei nostri cuori c'è lui, perché è stato praticamente quello che ha ideato il Mercatino, che ha dato il là al commerciale del Calci. Allora, andiamo invece a conoscere, poi tanto insomma tutte queste belle persone, avremo modo di ricordarle, insomma anche proprio nella serata stessa, assolutamente. Danza aerea, danza aerea, questa disciplina diciamo che a quanto pare riscuote tanti successi, ultimamente abbiamo conosciuto anche alcuni ballerini, insomma che portano avanti questa disciplina, devo dire che è molto proprio bella da vedere, no? Nel senso appunto artistico del termine, che cosa accadrà a questo Mercatino in Danza? Le passo il microfono. Sono qui a rappresentare, mi chiamo Simona, sono la scuola di circo 100% circo, facciamo pedagogia del circo, infatti come diceva bene Greta, non è il circo tradizionale, è il contemporaneo, i nostri modelli di ispirazione sono il circo du soleil, quindi gli artisti che fanno spettacolo, unisce disciplina, controllo, allenamento e perseveranza, per cui è proprio una vera e propria arte, e per questo che Greta ci ha contattato, cioè ci ha chiesto, ma voi fate danza? E quindi al concetto... Si può chiamare danza? Si può chiamare danza? E io mi sono messa a ridere, perché chiaramente è un'unione tra l'oggetto e il ballo, tra l'eleganza, la forza, quindi sì, ci possiamo chiamare danza, e è un'arte a tutto tondo, è per questo che infatti il calcio si rinnova sempre, perché richiama sempre situazioni diverse, secondo me è per questo che in tutti questi anni ancora c'è il calcit, perché riesce veramente a rinnovarsi, e noi saremo presenti il venerdì, come apertura con l'acrobatica aerea, faremo una performance di tessuti aerei, e da lì, domenica mattina, giusto? 10 e mezzo, 12 e 30, faremo uno stagio aperto a tutti, chiaramente l'incasso sarà devoluto al calcit, dove tutti potranno provare il tessuto, sia i ragazzini, ma sia anche gli insegnanti che partecipano di danza, sia le mamme, infatti è aperto un po' a tutti, e lì faremo provare anche i momenti di giocoleria, giocoleremo con tre palline, i momenti di acrobatica a terra, e equilibrismo, quindi imparerete a camminare sulla sfera, piuttosto che andare sul monociclo. E il pomeriggio, una performance dei miei allievi, dove vedrete un mix di tutto quello che noi facciamo. E ci tengo a precisare che noi lavoriamo anche la mattina a scuola, quindi io insegno circomotricità nelle scuole, sia a Montevarchi, sia ad Arezzo, siamo presenti ormai in una realtà dall'infanzia, alle scuole medie. Quindi questo va proprio a valorizzare il lavoro del circo, che non è più visto come il circo vecchio, ma è un circo innovativo e pedagogico, quindi noi usiamo gli attrezzi del circo per arrivare a degli obiettivi, se no non avrebbe così successo nelle scuole, se non ci fosse un valore pedagogico. Grazie, è stata molto interessante. Poi, insomma, alla fine del Gran Galà, magari Carlo potrebbe fare anche una prova di equilibrismo, però, insomma, vediamo perché poi potrebbe finire come siro. L'altra novità, invece? È la danza sportiva, io sono Irene Mariottini e sono trainer della scuola Arcobaleno, mentre il fondatore è Enzo Leprai, è lui che, diciamo, parla di questo. Ecco, danza sportiva, quindi, insomma, un'altra disciplina ancora che va, diciamo, a regalare la sua professionalità al calcit. Sì, per noi è un onore, e colgo l'occasione di ringraziare Greta per questa opportunità che ci dà di presentare a tutti gli aretini una realtà che molti conoscono sotto l'aspetto del ballo sociale, cioè quello che si fa nelle ballere piuttosto che alle sagre, no? Noi, oltre che a insegnare alle persone a ballare di base, diciamo così, il liscio, siamo inseriti nella danza di alto livello, nella danza di coppia alto livello. Il venerdì, in occasione di Galà, presentiamo la coppia due campioni di ballo, sono Nicola Leprai, mio figlio, e Martina Restuccia, che oggi non sono presenti perché sono in Olanda, siamo un'altra coppia di nostri allievi Santini e Gavelli, che sono in Olanda appunto per una gara internazionale di danze standard e danze latinoamericane. Ma molti personaggi abbiamo in Galà Restuccia che non è ben valorizzato. Esatto, infatti, hai detto benissimo, hai detto benissimo, hai detto benissimo, questa per noi è anche l'occasione proprio questa di questa intervista per ricordare che oltre che il ballo da riporto, diciamo, esiste una realtà sportiva, esiste una realtà sportiva che in tutta la Toscana è veramente un gioiello. Cioè in Toscana esistono degli elementi di grande spicco. Ad Arezzo questo grande spicco ce l'abbiamo noi, quelli dell'Associazione Danza Sportiva Alcobaleno. Noi pensiamo che la sera, quel venerdì sera, chi sarà presente vedrà uno show di danze latinoamericane unico. Vedrete che è un'occasione unica per osservare da vicino dei grandi campioni di danze latine. Bene, allora, insomma, sarà veramente un grandissimo onore, Carlo, insomma, essere lì quella sera per conoscere questi professionisti e per dargli, io mi impegno, perché lo posso fare, sono il direttore, insomma, quindi lo posso fare, per la mia emittente, insomma, a dare davvero massima visibilità a tutte queste belle realtà, non solo, insomma, in quella serata, in questa occasione, ma grazie al Calcit vengono sicuramente fuori, no? E quindi sta anche a noi, voglio dire, operatori della comunicazione, dare il giusto risalto ecco a queste realtà. Poi si ballerà un valseriette. Inizieremo praticamente una nuova avventura televisiva, con questo ballare. Già si propone, ma, cioè, voglio dire, già si propone, no, scherzo, ovviamente scherzo, è un piacere, quindi chiudiamo qua questo bell'incontro con il Calcit, diamo appuntamento a queste tre giornate. Particolarmente a venerdì sera e io direi da questi emittenti ringraziare tutto il Consiglio d'Amministrazione del Calcit, porto il saluto del Presidente e consiglieri e auguro alla nostra Greta Palazzini di, non soltanto di proseguire, ma di trovare altre novità come le belle novità di quest'anno al Centro Affari, venerdì sera, 3 marzo 2017. Greta. Arezzo TV ci sarà e riprenderà integralmente tutta la serata, quindi in occasione poi della serata vi comunicheremo anche i giorni e gli orari di messa in onda. Ci vediamo allora all'Arezzo Fiere Congressi. Arrivederci. Grazie.